Il trofeo ciclocross città di Vigiano ha archiviato la sua quarta edizione al termine di una splendida giornata curata nei minimi dettagli dal Team Bikers Vigiano che ha messo in campo un'organizzazione efficiente e senza sbavature in quello che è stato il secondo appuntamento in calendario del trofeo dei tre mari 2016-2017 ed anche la prova unica per l'assegnazione delle maglie di campione regionale FCI Basilicata. Pioggia, fango, il terreno viscido e pesante sono stati i principali caratteri distintivi di questa edizione sul piano tecnico, agonistico e sportivo andato in scena sul collaudato percorso a Tiguo all'Hotel Kiris con un mix avvincente di rettelinei, curve, rilanci e contropendenze che hanno reso molto vivace lo sforzo dei 170 bikers provenienti da Basilicata, Puglia, Calabria e Campania. A momenti dovrebbe iniziare il tempo, il tempo, il tempo, il tempo, il tempo, la cara, per questo tempo, c'è davvero un portagonismo tra gli atleti e l'atleti. Vai Enrico, vai, aiuti, aiuti, è troppo lato, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Rilascia! Bebe, via! Ciao Poliki, via sull'erba, vai, vai! Accendela, alleggerisci! Vai, vai, vai! Sì, mi sono divertito molto, percorso molto sali e scendi, molto bello. Sì, mi sono divertito molto, percorso molto sali e scendi, molto bello. Attenzione a te, 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 a te. Che stupra una volta a rete, il velocirò più, e si mette davanti, si mette davanti, si mette davanti. ecco gli esordienti sono partiti signore gli esordienti sono partiti via via il ponzo via via papino via grazie Andare e lanciare! Via tutta! Bravissimo! Grazie! La gara è stata molto dura E poi sono tutto per la condizione Comunque il percorso si è diventato ora Ettore abbiamo assistito ad una bella vittoria a Gallipoli Con una bella volata ovviamente con il tuo avversario di sempre Adesso vince anche a Biggiano Il trofeo a tre mari sembra essere tuo Quindi, com'è andata? L'inizio male perché sullo strappetto da dietro sulla controprendenza Se ne è venuta la catena E ho dovuto rimetterla con le mani E io adesso so... L'inizio non ha mai... Algu flourale non lo 아니면 di più E ora vediamo Uff! Ma dov 되�li che adivano? In un plissio il primo Ma quello non imp對吧 che rilonga un periodo P o l'iscono Grazie a tutti. Vai Lucie, vai Lucie, non te mordere, vai. Vai Lucie, vai Lucie. Vai Lucie, vai Lucie. Vai Lucie, vai Lucie. Vai Lucie, vai Lucie.